Buonasera dottore. Buonasera, buonasera. Buonasera, volevo chiedere come sta mio marito? Realmente devo dare due notizie, una è brutta, l'altra invece è bruttissima. Ma come dottore, una è brutta, l'altra è bruttissima? Vuoi sapere prima quella brutta o quella bruttissima? Voglio sapere quella brutta. Le restano 24 ore di vita. E qual è quella bruttissima allora? E che questo fatto glielo dovevo dire ieri signora.